Le Naidi passano alla Pretuziana Sport. La gestione dell'impianto pescarese va alla società dell'amministratore unico Massimo Pompei che avrà il gravoso compito di rilanciare una struttura chiusa ormai da 16 mesi e che vede, anche dal punto di vista delle situazioni dei dipendenti, parecchi versanti da risolvere. Sicuramente la prima cosa che faremo è quella di contattare tutti i dipendenti che hanno lavorato fino adesso nel complesso delle Naidi e di ricominciare con loro questa avventura. Diciamo che sulla carta il bando prevede la possibilità di lavorare solo un anno all'interno dell'impianto ma speriamo di poter fare un progetto di ristrutturazione molto più concreto e molto fattibile da poter essere in più anni all'interno della struttura e tornare a dar vita a un impianto importante come l'è stato negli anni passati. La società teramana ha superato la ESA sia sotto il profilo tecnico che sotto quello economico realizzando 79 punti contro i 23 dell'altra pretendente uscita battuta. La società vincente a Teramo già si occupa del palazzetto della piscina e con la Pretuziana Sport Capofila ci sono anche la Rarinantes che gestisce la piscina comunale dell'Aquila e la FG Quadro vicino al mondo della disabilità. L'idea nostra è quella di lavorare con un progetto pluriennale. Vedremo quello che la regione ci farà fare e ci darà la possibilità di fare. Questa assegnazione chiude anche un potenziale contenzioso dopo il ricorso al TAR che la Pretuziana aveva annunciato a giugno per la precedente assegnazione. Sì, avevamo visto e avevamo studiato le carte e a nostro parere c'erano delle cose che non quadravano e quindi avevamo fatto questo ricorso al TAR. È ovvio che con un nuovo bando, con una nuova assegnazione tutto decade e quindi insieme alla Rarinantes e alla FG Quadro di Pescara puntiamo a ricominciare da capo, aprire una nuova pagina per questo impianto e lavorare per tutta la città e tutto il comprensorio.